Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di italiano. Questo video, come potete vedere dal titolo, sarà un video utile di grammatica, un video breve che però vi aiuterà ad imparare e ad utilizzare alcuni tra i più usati verbi irregolari italiani. Io qui ne ho messi in tabella 15. Questi sono 15 verbi irregolari italiani tra i più usati. Ho fatto il verbo all'infinito e poi il tempo presente di ciascun verbo, quindi la coniugazione e il tempo presente. Quindi partiamo con la prima tabella che contiene questi cinque verbi. Primo verbo, andare, to go. Io vado, tu vai, lui lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Io ve li leggo così è più semplice anche imparare la pronuncia corretta. Verbo stare, to stay. Io sto, tu stai, lui lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Bere, to drink. Io bevo, tu bevi, lui lei beve. Noi beviamo, voi bevete, loro bevono. Dovere, must, to have to. Io devo, tu devi, lui lei deve. Noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. Conoscere, to know. Io conosco, tu conosci, lui lei conosce. Noi conosciamo, voi conoscete, loro conoscono. Ripeteteli anche dopo di me. Ascoltate questo video più di una volta e poi cominciate a utilizzare questi verbi nelle vostre frasi scritte e orali in italiano. Andiamo avanti con la seconda tabella con altri cinque verbi. Verbo fare, to do. Io faccio, tu fai, lui lei fa. Noi facciamo, voi fate, loro fanno. Potere, to can. Io posso, tu puoi, lui lei può. Noi possiamo, voi potete, loro possono. Verbo perdere, to lose. Verbo perdere, to lose. Io perdo, tu perdi, lui lei perde. Noi perdiamo, voi perdete, loro perdono. Verbo sapere, to know. Io so, tu sai, lui lei sa. Noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Scrivere, to write. Io scrivo, tu scrivi. Lui lei scrive. Noi scriviamo, voi scrivete, loro scrivono. E l'ultima tabella con gli ultimi cinque verbi. Verbo vedere, to see. Io vedo, tu vedi. Lui lei vede. Noi vediamo, voi vedete, loro vedono. Verbo vivere, to live. Io vivo, tu vivi. Lui lei vive. Noi viviamo. Voi vivete, loro vivono. Dire, to say. Io dico, tu dici. Lui lei dice. Noi diciamo, voi dite, loro dicono. Verbo uscire. Io esco. Tu esci. Lui lei esce. Noi usciamo. Voi uscite, loro escono. Venire. Io vengo. Tu vieni. Lui lei viene. Noi veniamo. Voi venite. Loro vengono. L'esercizio che vi lascio, potete scriverlo qui sotto nei commenti, è di scegliere uno o due verbi e di scrivere la vostra frase o le vostre due frasi utilizzando uno di questi verbi e scegliendo uno di questi pronomi. Quindi una frase col tu fai o una frase con noi, una frase con io. Ok? Ne scegliete oppure ne scrivete quante ne volete. E questo perché? Questo perché mentre avete ancora, diciamo, fresco si dice, cioè appena ascoltato e appena studiato una parte nuova o un ripasso comunque della grammatica, è utile mettere già in pratica, cioè utilizzare subito le cose che si studiano nella grammatica, questo per qualsiasi lingua, perché così la nostra mente, il nostro cervello riesce a trattenere molto più a lungo le informazioni. Quindi l'esercizio, scrivete qui sotto nei commenti e io vi correggerò se farete degli errori, ma intanto è importante per voi per migliorare il vostro italiano. Spero che questo video vi sia stato utile. Lasciate un like e condividete questo canale con le persone che stanno imparando, che vogliono imparare o migliorare questa lingua. Io vi ringrazio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!